La macchina intanto che scurva, 100 metri allo stacco, partiti con la velocità iniziale di McCanguasimo che conquista la testa su Ortolano Z, a largo e veloce anche Miria del Sile, poi più a largo c'è Nespolita, lungo la corda cerca di seguire anche Imegin, ma è stato però superato già da 1.800 cubi, intanto 200 iniziali per McCanguasimo in 14.4, Miria del Sile però non si perde d'animo e va subito a chiedere strada, ma il leader accelera e scaturisce un quarto iniziale davvero molto svelto dopo la prima frazione in 14.4, una seconda in 15.29.4. E Miria del Sile rimane sul battistrada, anzi va nuovamente all'attacco, alla corda rimane in posizione di rincalzo Ortolano Jet, intanto 44.8 per i 600, andatura davvero sostenuta. In seconda pariglia c'è Oms dei Greppi che ha anticipato la risalita di Osirideron che è in scia Nespolita, intanto un minuto appena abbondante, il passaggio agli 800, ancora un 15.3 davanti alle tribune. McCanguasimo costretto gli straordinari, Miria del Sile è di fuori, mentre la corda rimane Ortolano Jet, poi c'è Oms dei Greppi che aspetta il momento più opportuno per entrare in azione. C'è però Nespolita che dalla quarta pariglia scatta, è ora il momento di Oms dei Greppi, Oms dei Greppi si porta in breve a ridosso del leader, 400 alla conclusione, lo scatto anche di Nespolita che viene in terza corsia. Poi lungo la corda Ortolano Jet, Nespolita è anticipata da Osirideron ma continua in quarta ruota, seguita a sua volta da Hortensia Pitt, completamento della curva finale, ingresso in dirittura con McCanguasimo in vantaggio. In seguito da Ortolano Jet, ultimi cento di gara, McCanguasimo in testa a lunga, Ortolano Jet in seconda posizione, sbaglia invece Oms dei Greppi nel finale, vince come vuole. Ortolano, scusate, McCanguasimo in secondo posto per Ortolano Jet, 1-15 secco, il ritorno al successo per McCanguasimo con Massimo De Luca in sicuro percorso di testa. Andiamo a rivedere le immagini della vittoria, successo netto per McCanguasimo, secondo posto per Ortolano Jet, mentre al terzo finisce Minnesota Cube, l'errore invece è quello di Homes dei Greppi che aveva tentato la sortita ai 400 finali. Successo per McCanguasimo, quota di 9,34 al totalizzatore.